Bentornati a Balconi TV Schio, sono Carla, con me oggi Irene Brigitte Bend. I piatti del grande al piccolo, le sedie sempre sotto il tavolo, i quadri dritti. Eppure tu sei qui che guardi i soffitti, proprio quel non so che, sì è proprio quel non so che, per me è proprio quel non so che, non c'è. Stai zitto se non vedi quel che ho fatto io, oltre a te ho sposato pregi, difetti, eppure è una suocera, le porto il latte, le porto il pane, le porto quando serve in ospedale, augurandole ogni male, proprio quel non so che, sì è proprio quel non so che, per me è proprio quel non so che, non c'è. Proprio quel non so che, sì è proprio quel non so che, per me è proprio quel non so che, non c'è. Parlano vicini eppure non ti vedono, ricordano quello che si fa, ma non perdonano gli aiuto che a volte non si dà. Quando il bimbo era piccolo, davo anch'io da mangiare a quell'angelo. Corrono gli ultimi anni che vivo e mi lasciano senza nemmeno un sorriso, proprio quel non so che, sì è proprio quel non so che, E per me è proprio quel non so che, non c'è. Proprio quel non so che, sì è proprio quel non so che, per me è proprio quel non so che, non c'è. Non c'è. Proprio quel non so che Sì è proprio quel non so che per me Proprio quel non so che non c'è Irene e Brigitte Band Benvenuti nel nostro balcone Vieni più vicino a Irene che ti chiedo delle cose Intanto prima di tutto presentaci i tuoi compagni di viaggio di oggi Allora ho l'onore di suonare assieme a Michele Todescato al contrabbasso E Matteo Bortolussi alla batteria Molto bene, grazie ragazzi, benvenuti anche a voi Irene, quel non so che, cosa dice? Che cos'è? In realtà sono cose molto semplici Come per esempio un sorriso Che però a volte si sciolgono anche le situazioni più tese O perlomeno aiuterebbero a sciogliere Ad esempio in questa canzone Abbiamo diverse persone che prendono la parola Un quadretto familiare Prima appunto ha parlato la moglie Poi, anzi no, prima il marito Poi la moglie, infine la suocera E insomma a volte un bel sorriso Risolverebbe tanti problemi È vero, un bel sorriso stempera qualsiasi situazione Irene, dove possiamo trovare le tue canzoni? Allora, abbiamo una pagina Facebook Irene e Brigitte Band appunto E poi, sì, su YouTube Tra l'altro tra un po' Uscirà un video Di un altro brano originale Che abbiamo arrangiato insieme Si chiama Lasciare E tra l'altro, curiosità Il regista, insomma il videomaker Il ragazzo che ha ripreso la puntata di Balconi TV Trieste A cui sono stata ospite Quindi insomma diciamo che qua il cerchio si chiude un po' E allora facciamogli anche un saluto a questo ragazzo Ciao dal Balcone di Schio Damiano Tommasi, bravissimo Irene, in bocca al lupo per questa nuova uscita Per il tuo progetto Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, abbiamo avuto fortuna con il tempo Che gli dicono che non è così normale Quindi speriamo che sia di buon auspicio all'estate di tutti Ottimo, lo sarà Ragazzi, a presto Ricordate di andare a curiosare sulla loro pagina E seguite anche la nostra pagina Su Facebook, Twitter e Instagram Dal Balcone di Schio è tutto Arrivederci alla prossima Ciao 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 Ciao